ciao amici come state lo so che non si parla con la bocca piena quando si mangia ma mi avete preso nel mio momento della colazione dove sono sono venuta a capdug perché avevo un po di lavori da fare e così niente tra un lavoro e l'altro intanto vi faccio un saluto anche perché da un po che non ci vediamo molti di voi hanno scritto ma come non ci sei è saltato le dirette vero vero per problemi vari e non abbiamo parlato di cimiteri ma recupereremo ma intanto volevo anche così farvi un po vedere ma intanto perché sono venuta qui e quali lavori dovevo fare che tra l'altro per inciso poi vi faccio vedere mi hanno sbagliato ma va bene ma volevo farvi anche vedere che insomma qui a capdug si sta un po muovendo quello che sono i lavori per la ricostruzione della passeggiata dalla spiaggia quindi dal molo fino praticamente al porto devo dire la verità è che dovevano iniziare molto tempo prima e adesso per diciamo così la primavera estate sarebbero dovuti già essere finiti almeno nella prima parte invece dovendosi spostare al porto e fare dei lavori primo al porto insomma hanno ritardato e quindi sono un po indietro con i lavori però secondo me verrà una bella cosa molto interessante anche per i negozi e tra l'altro mettiamo questa perché fa frescolino fuori tra l'altro non guardate i pasticci che ci sono tra l'altro anche i negozi si stanno preparando per la stagione primaverile soprattutto per la pasqua allora intanto dovranno rifare tutto questo tratto come vi dicevo di camminamento quindi andranno a togliere gli scalini faranno praticamente una si dice una rampa unica anche per la possibilità anche se c'è già adesso ai disabili ai diversamente abili insomma o carrozzine passeggini di poter passeggiare tranquillamente ma come vi dicevo laggiù come vedete ecco ci sono dei lavori come vedete laggiù e sono proprio iniziati da là quindi dal mall quindi come vedete dal mare rifanno tutta la pavimentazione quindi tutta la piazza per poi risalire vi dicevo sono un po indietro effettivamente sì insomma bisogna un po camminare sulla terra ma va bene però in lontananza il mare sempre il mare sempre bello è qualche giorno fa due giorni fa vi dico che era uno spettacolo perché era veramente il mare in burrasca in tempesta c'era tanta tanta pioggia tanto vento il mare non so se vedete quei frangifuchi la praticamente non si vedevano più talmente le onde erano alte e lo scavalcavano è stato insomma una bella giornata interessante detto questo i negozi come vedete intanto insomma si preparano per la pasqua apriranno proprio il venerdì santo che mi stanno facendo gli ultimi lavori i miei lavori invece adesso ve li faccio vedere ma intanto vi faccio vedere guardate qua a chi aveva detto eh ma non regge eh no un anno è passato ed ha retto ancora tutto anzi adesso dovremo ancora mettere qualcosa sopra qua che sia più facile da pulire però come vedete insomma il mio angolino per l'aperitivo c'è sempre funziona ma vi dicevo perché sono venuta qua perché avevo dei lavori da fare quali saranno stati questi lavori oltre dalla tinta che insomma bisogna ogni tanto ridarla e quindi insomma ripulire per la nuova stagione per la ripartenza io volevo cambiare in realtà in bagno la doccia ma la doccia non quanto doccia ma in quanto a vetro perché certo c'è questo pezzo di vetro che non è nella e nel 2024 non si può più fare la doccia con la tenda no anche perché ti si appiccica dappertutto quando esci non va bene però volevo praticamente togliere questa tenna e mettere una porta scorrevole sempre in vetro che è successo a non tocco tanto ieri sono venuti hanno tolto tutto è e poi però hanno visto che praticamente le misure erano sbagliate quindi si erano sbagliati ad acquistare quello che dovevano montarne per cui hanno rimesso giusto così alla bene meglio tutto a posto e oggi torneranno per risidico dare riprendere un po le misure quindi sono molto in ritardo con la mia partenza per tornare a casa va bene detto questo insomma sarò comunque qui farò ancora qualche lavoretto dopo di che ritornerò a casa quindi intanto vi faccio gli auguri di buona pasqua non so se avete già comprato le uova di pasqua se le regalerete io in questo sono un po indietro ancora andare a comprare i miei bimbi i miei nipotini e dopo di che insomma invece ci ritroveremo come sempre nelle nostre dirette perché torno 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 state tranquilli che torno allora intanto la buona pasqua aspetto di sapere cosa farete se farete anche i classici merenderos del lunedì di pasquetta e poi se avete comprato ho ricevuto delle uova di pasqua un bacio ciao a presto io torno a finire la mia colazione e poi si va via voliva ciao